Lo scoglio delle poltrone sembra quello più arduo da girare per la nave del sindaco Lucio Greco che oggi a quattro mesi di distanza dalle elezioni non sembra più quella corazzata che stravinse le ultime amministrative. I cigolie e i mal di pancia stanno facendo scricchiolare non poco la maggioranza multicolor che supporta il primo cittadino. Il nodo principale da sciogliere è proprio quello delle nomine del nuovo Adighelas e dei due assessori che dovrebbero andare ad ampliare la giunta. Il primo nulla di fatto è arrivato dall'assemblea dei soci della municipalizzata che questa mattina avrebbe dovuto sancire la nomina del nuovo amministratore. Tutti si aspettavano il nome di Francesco Traenito e invece è arrivata una fumata nera. Assemblea rinviata a data da destinarsi, congelato dunque al momento Traenito, poco gradito alla maggioranza di Greco che probabilmente prende del tempo per placare i malumori interni. Stessa situazione per quanto riguarda i due nuovi posti in giunta. Fino a qualche settimana fa si pensava che Greco riuscisse ad accontentare tutti. Adesso però gli incastri non tornano. Nelle ultime ore addirittura è stata messa in dubbio la nomina dell'ex dem Giuseppe Licata, da mesi tra i favoriti per entrare in municipio dalla porta principale. I referenti dell'ex assessore sarebbero ancora trattando sulle deleghe da assegnare al professionista che dato l'apporto garantito a Greco in campagna elettorale non vorrebbe ritrovarsi in mano compiti di seconda fascia. In sostituzione intanto circolano i nomi dell'avvocato Angelo Caffà, il primo dei non eletti nella lista azzurri per Gela, dell'avvocato Liliana Bellardita e dell'ex consigliere comunale Francesca Caruso, a loro volta candidate nella stessa lista alle scorse amministrative. Licata alla fine potrebbe comunque mantenere il posto di papabile nuovo assessore, nonostante le beghe delle ultime ore. Nessun problema invece per il secondo nome, sembra confermato quello dell'ex consigliere Cristian Malluzzo. Ciò che è certo è che la nave Greco ad oggi naviga in un mare parecchio agitato. A cercare di tenere la barra dritta ci prova Pierpaolo Grisanti, consigliere di un'altra Gela che smorza i toni sulle tensioni di queste settimane. È tempo di decisioni, dice Grisanti, non si può più rinviare. È necessario anche ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa a quella di pianificare e redistribuire anche quelli che sono i carichi di lavoro degli assessori ad oggi presenti in giunta. Le priorità non sono di certo le nomine, ma la vera priorità è trovare quelle soluzioni ai problemi che ad oggi giornalmente deve affrontare l'amministrazione. Grisanti intanto lancia anche qualche frecciata all'atteggiamento dell'opposizione sulla vicenda Gelas. Registro ai me che comunque nel corso del consiglio monotematico voluto dalla stessa opposizione e dai banchi dell'opposizione non è pervenuta in aula alcuna soluzione o proposta di risoluzione delle problematiche tuttavia anche qui mi appello al senso di responsabilità di tutti nella speranza che nel prossimo futuro si possa effettivamente imbastire si possa concretamente lavorare insieme anche con l'opposizione per risolvere i problemi di questa città. Tra le lamentele più pressanti da parte dei consiglieri di maggioranza è il fatto che il sindaco vada avanti per la sua strada senza condividere più di tanto le scelte con gli alleati. Grisanti da un lato smentisce ogni chiusura del primo cittadino ma dall'altro invita a una maggiore condivisione dei temi. La condivisione e il metodo debbano essere comunque dei pilastri dell'azione politica prima e amministrativa e lì dove ci sono stati o ci sono dei problemi tutti insieme li dobbiamo risolvere perché ripeto questa città non può più permettersi perdita di tempo.